Buonasera, grazie di essere venuti. Dani ha avviato questi nostri lavori che vorrebbero avere soprattutto il significato di una ragionare insieme, di una discussione in comune su una materia già in quella di oggi molto fluida, come ha già detto Dani. Noi abbiamo costituito nell'Inulazio un gruppo di lavoro sul tema del presente, del prossimo futuro dell'area metropolitana di Roma. Questo tema ci è sembrato non nuovo, nel senso che questa idea metropolitana percorre addirittura il piano regolatore vigente al quale si è incominciato a pensare più di 15 anni fa e che poi via via è diventato vigente. C'è una tavola abbastanza celebre del piano regolatore, detta delle stelline, che ha uno sguardo all'intera area metropolitana, arriva dai comuni sabatini fino giù al complesso dei Colli Albani. E questo mi fa venire in mente una cosa che volevo proprio dirvi, e cioè questo disegno che voi vedete qui e che è riprodotto anche con mezzi un po' di fortuna nella locandina di Convocazione, è un disegno che fu elaborato da Maurizio Marcelloni insieme a Carmen Romano nel suo studio negli anni in cui si occupava del progetto metropolitano per la provincia di Roma. Allora ci è sembrato anche nel messaggio di, nella locandina di Convocazione di questa prima riunione, ci è sembrato, almeno per me e per alcuni di noi, importante ricordarci del lavoro che si fece insieme, e dei contributi che persone, alcune delle quali purtroppo non sono più qui, però hanno dato alla costruzione di questa idea e possibilmente anche di questa pratica di governo del territorio metropolitano. Allora, noi oggi siamo qui soprattutto per discutere gli aspetti giuridici anche molto nuovi e anche molto in una situazione non ancora di piena stabilità, come i tre relatori poi discuteranno più approfonditamente. Il punto di partenza concettuale è che gran parte dei problemi che si pongono oggi a Roma si configurano, si formano nell'area metropolitana. Alcune delle esigenze più rilevanti emersi in questi ultimi 10-15 anni sono tipicamente metropolitane. Io venendo ho riguardato qualcuno dei dati che sono contenuti nei materiali che abbiamo diffuso per la preparazione di questi seminari. Tutti, ciascuno su un tema diverso, ma tutti con un respiro metropolitano, dell'area metropolitana di Roma. Forse, fra poco, della città metropolitana di Roma. Solo per dare qualche... siccome i giuristi parleranno delle norme esistenti in fieri, eccetera, però per avere un'idea di che cosa stiamo parlando. Allora, qui c'è un'immagine. Riguardando qualcuno di questi semplici dati, la popolazione attuale del Comune di Roma è di 2.761.477 persone. 2.700.000. Attorno c'è una prima e seconda cintura di comuni, fino poi ai comuni dell'intera provincia, è 1.432.591 persone. Cioè 1.500.000.000 di persone sono in quello che nello slang tecnicos che ha Interland metropolitano. Quindi l'area metropolitana di Roma, che ormai definitivamente, dopo decenni di dibattito dei geografi, degli urbanisti, dei territorialisti, eccetera, sui confini più adatti a definire un'area metropolitana, è ormai considerata la provincia di Roma che ha oggi una popolazione di 4.194.068 abitanti, persone. 4 milioni, un po' più di 4 milioni. Nel resto della regione Lazio vive un milione e mezzo di persone. Cioè la realtà di cui discutiamo è così fatta. Possiamo anche immaginarla schematicamente come una città centrale di più di due milioni e mezzo di persone, poi una colonna intorno di un milione e mezzo di persone e questa è la realtà metropolitana. E poi ancora un milione e mezzo di persone nella regione. In totale dunque il Lazio ha 5.728.688 persone che vivono nel Lazio. La cosa interessante è che secondo le ultime ricerche fatte da istituti specializzati, tra i quali sicuramente il Cresme, la dinamica di gran lunga più sostenuta, gli spostamenti di popolazione, i nuovi arrivi di persone residenti, eccetera, si è verificata tutta in quella corona dei comuni intorno a Roma. Sono aumentati in dieci anni di un quinto, del 19,5%, quasi 300 mila persone. Cioè nel giro di dieci anni la corona dei comuni intorno a Roma ha ospitato, c'è stato uno spostamento di residenze, ovviamente non sono qui a farvi un'analisi, volevo solo richiamare alcuni dati oggettivi. C'è stato sicuramente uno spostamento indotto anche dallo stato del mercato delle abitazioni, dagli alti costi delle case e così via, uno spostamento verso l'esterno. Così come le persone che sono arrivate a Roma si sono insediate prevalentemente nei comuni di cintura. Soprattutto quelli, ma non solo, ahimè, quelli collegati con il ferro. In molti casi quelli, perché chiaramente sono quelli che permettono uno spostamento diciamo relativamente migliore nell'area metropolitana. Guardate, è più del doppio della crescita di popolazione nel resto della regione. ed è più della crescita di popolazione a Roma. La crescita della popolazione a Roma che è di 214 mila persone è un po' falsata dal fatto che, come tutti sapete, c'è stato un errore dell'Istat che è stato corretto solo nel 2006 e che vedeva mancare alla popolazione reale di Roma circa 149 mila persone. Piccola parentesi, non so se qualcuno di voi ricorda le polemiche sul sovradimensionamento del piano di Roma. Poiché i dati del 2001-2002 dicevano di un'ulteriore riduzione di popolazione che era arrivata a 2 milioni e 570 mila abitanti e questo piano era assolutamente... Io ricordo addirittura paginoni di quotidiani con personalità, diciamo così, dell'urbanistica e diciamo un piano sovradimensionato. Era soltanto un errore dell'Istat. Sostanzialmente noi allora facevamo la previsione di una popolazione stabile nel tempo, cioè la logistica che indica l'andamento dell'urbanizzazione nell'ultimo secolo e mezzo indicava che l'asintoto è quasi raggiunto e quindi molto probabilmente la popolazione di Roma resterà di queste dimensioni intorno ai 2 milioni e 700, 2 milioni e 800 mila persone ancora per prossimi anni. Dunque questa è la realtà della quale parliamo. è quasi i tre quarti della popolazione regionale. Ma solo quest'altro dato voglio ricordarvi. Tutto questo, questo cambiamento della popolazione, questa crescita spostata nell'interland metropolitano e quindi con conseguenti problemi di abitazioni, di spostamenti, di mobilità e così via, grandissimi, è soprattutto fatta di stranieri. Forse questo è un altro disegno di Maurizio. Ecco, beh forse laggiù non si vede, anzi sicuramente si vede poco. Questa è una previsione del Cresme, della crescita di popolazione da oggi al 2020, nei prossimi 10-12 anni. Guardate, due o tre dati. Oggi, gli stranieri nel Comune di Roma sono 195 mila. Erano la metà dieci anni fa. Cioè, sono cresciuti di due volte, si sono raddoppiati. Nella Corona, di cui parlavo prima, nell'interland, erano 31 mila. Sono diventati 248 mila. 247 mila, 753. Nuovi abitanti di origine mondiale. Vengono da dovunque. E fanno molti lavori. Sono aumentati di circa otto volte. Nell'intera provincia, la media rappresenta la somma dei due aumenti di Roma e dell'interno metropolitano. Nel resto della provincia l'aumento è molto, molto più ridotto. Dunque, noi abbiamo di fronte una realtà che intuivamo alcuni anni fa, che ora ci viene dichiarata in modo evidente dai dati statistici, che crescerà come importanza e come complessità dei problemi, delle culture, delle esigenze di queste persone. Naturalmente, senza nasconderci, che parliamo di 250 mila persone in un'area metropolitana che è di 4 milioni di persone. Però i dinamismi, mi interessa sottolineare, i dinamismi sono soprattutto questi. Sono nell'Interland e da parte di popolazione che vengono da culture, da realtà diverse. E quindi qui c'è una grande sfida di capacità di accoglienza. Capacità di accoglienza, quindi capacità di prevedere, di immaginare cosa può essere questo sistema metropolitano. E quindi, detto che noi parliamo di questa realtà, che il gruppo di lavoro dell'Inulazio ha individuato questo sistema, ah, volevo farvi vedere solo un'altra immagine. Ecco, guardate, questa di nuovo, o dieci anni fa, oggi e nel 2020, l'incidenza degli stranieri e i colori più scuri indicano la maggiore incidenza che arriva in alcuni casi dei comuni di cintura a essere tra il 25 e il 30% delle persone. Tra il 25 e il 30% delle persone. Cioè, noi, questa è Roma. Questa è Roma. e quindi cerchiamo di capirla. Allora, il primo di questi seminari è quello che si svolgerà oggi e fra pochi istanti inizieranno i relatori, credo, con la relazione dell'avvocato Enrico Lorusso, di Enrico Lorusso, che è stato un... non mi venia da usare degli aggettivi, ma non devo perché sarebbe... ma insomma è stato un eroico capo dell'avvocatura del Comune di Roma. Dico eroico perché ha sostenuto alcune battaglie per l'urbanistica romana che sono state piuttosto epiche, almeno io così le ricordo. Quindi il seminario di oggi è dedicato a queste novità di tipo giuridico amministrativo ma veramente sta succedendo che dopo 20 anni cioè dopo la legge del 90 dopo 23 anni dopo la legge 142 si sta veramente realizzando un governo per realizzare si sta per realizzare un governo metropolitano accidenti questa è una questa questa è la notizia questa sarebbe la notizia questa sarebbe la notizia però c'è qualcosa che ci ha spinto a mettere al primo al primo posto in questi seminari il questi aspetti una riflessione sugli scenari istituzionali che si vanno configurando una riflessione pacata come devo dire anche appunto non non entusiastica tantomeno eccitata e perciò tre persone assai esperte il secondo seminario sarà a metà dicembre il 17 dicembre mi pare e sarà dedicato a quello che resta a detta di tutti ancora il problema centrale per i romani metropolitani cioè quello della mobilità come muoversi del trasporto del traffico eccetera e sarà dedicato a questo sarà sostenuto anche da una serie di studi che sono stati portati avanti per un precedente convegno del maggio scorso organizzato da Inulazio insieme al collegio degli ingegneri ferroviari e all'associazione italiana per l'ingegneria del traffico si raccoglieranno quei materiali si cercherà di portare avanti quel ragionamento e si cercherà di svolgere una riflessione un lavoro comune anche un po' meno neutrale di quello forse di oggi non lo so perché conoscendo un po' le persone che sono qui forse tanto neutrale non sarà ma voglio dire che l'Inulazio dovrà dire che cosa pensa fai conto del collegamento autostradale tra la 1 e tordecenci detto anche raccordino raccordone bis anulare semi anulare o che cosa pensa dei costi delle metropolitane perché sapete che il piano regolatore prevede un certo modello di trasporto metropolitano e allora in quel convegno di maggio emersero dei conti che del resto erano nelle pagine delle cronache cittadine già da tempo dei conti piuttosto preoccupanti ho appena visto un titolo oggi che tenderebbe ad aumentare ulteriormente la preoccupazione nel senso che il malaffare la corruzione le iper mazzette intorno a questi lavori sono addirittura cresciute pare e quindi il problema è si tratterà di rinnovare completamente il quadro di capire verso dove andiamo perché chiaramente così non si va da nessuna parte questo sarà il secondo seminario a metà dicembre il terzo seminario sarà su un argomento non meno importante sarà intitolato una metropoli sostenibile e tenterà di fare un'analisi dell'area metropolitana da un doppio punto di vista intrecciato cioè economico siamo in una crisi economica la quale non è certo il caso di spendere parole perché già tutte le i media ne sono zeppi e i trattati i libri di economia di premi Nobel eccetera e quindi però siamo di fronte a questo e contemporaneamente è una crisi ambientale non meno drammatica e forse più strutturale cioè più drammatica ancora e quindi cercheremo di affrontare i temi le proposte che si avanzano per l'area metropolitana per la città metropolitana sotto un duplice aspetto di economia e di ecologia e sarà il terzo seminario infine il quarto sarà dedicato diciamo all'operatività degli strumenti urbanistici e territoriali che vivono nell'area metropolitana il PTPG il piano territoriale della provincia di Roma e il piano regolatore in vigore dal 2008 qui cercheremo di essere il più attenti ma anche severi possibile nel senso di cercare di valutare che cosa ne è della operatività di questi strumenti che cosa è di alcune scommesse che l'urbanistica che allora si chiamava nuova e che ora ha già qualche anno in più sulle spalle che cosa ne è di quelle scommesse dei programmi integrati dei progetti urbani ma cosa ne è della rete ecologica insomma in che modo si può pensare oggi all'agricoltura urbana e metropolitana in modo diverso dal passato ci arrivano messaggi molto significativi da realtà indagini e ricerche su questo tema che sono di grandissimo interesse questo è il programma di questo ciclo di seminari vorremmo l'idea come si intuisce è quella di raccogliere attraverso questi seminari le conoscenze che sono oggi disponibili per la nostra area metropolitana raccoglierle riunirle insieme in una proposta che inulazio vorrebbe mettere sul tavolo del nuovo governo che ci sarà per la città di Roma per il Comune di Roma e forse anche per la città metropolitana l'idea di questo cammino attraverso quattro seminari che si concluderà assolutamente dentro il mese di febbraio perché poi incomincerà la chermessa elettorale è già cominciata ma incomincerà in modo più stringente e allora non ci sarà molta possibilità di discussioni più specifiche nel merito ma forse una proposta per l'area romana avanzata da Inulazio potrà avere un suo significato questo era per dirvi qual è il programma e qual è un po' l'oggetto della nostra discussione adesso io ridò passo la parola no ma forse posso passarla direttamente a Enrico Lorusso perché credo che lui sia il primo relatore Dani ti puoi sedere qui certo a Enrico Lorusso Grazie a tutti